Ipnotizzare gli spettatori in attesa dell'inizio del film, un'esperienza unica e innovativa. L'esperimento arriva dalla Festival del Cinema di Göteborg, dove il pubblico ha vissuto l'ipnosi sulla propria pelle, grazie al lancio dei Pnotic Cinema. Al posto dei soliti trailer, una sessione live per rilassare mente-corpo. Disorder, questo il focus dell'evento, ha esplorato il confine tra ordine e disordine. Nella nostra società e dentro di noi. Ho provato a fare tutto quello che ci veniva chiesto, racconta una delle partecipanti. È stato più facile mettere a fuoco oggetti e situazioni, grazie anche all'ambiente e al buio totale. L'unica luce era quella dello schermo. Ci siamo sbarazzati di tutti i rumori e delle distrazioni del mondo esterno. Grazie ai suoni siamo riusciti a emergerci meglio dentro la trama del film. C'era una maggiore concentrazione. Lo scorso anno, anche a causa delle restrizioni Covid, sempre per riflettere sul concetto di isolamento, un singolo spettatore aveva passato una settimana a vedere film da solo dentro un faro, su un'isola della Svezia.